Siamo già in queste ore, è molto suggestivo in queste ore soprattutto se non c'è il disturbo eccessivo dell'Aistover, perché anche questa piccola oasi di tranquillità a volte è disturbata dal traffico che percorre l'Aistover. Potrebbe essere bello in questa serata, visto che siamo sul tema degli stelli, della ripauna notturna, magari avere l'occasione di sentire il canto, il verso dell'allocco. È un rapace notturno che potrebbe esserci in queste zone qui. Non l'abbiamo mai percepito, almeno le volte che siamo venuti qui. Questa sera, un quarto d'ora fa, mezz'ora fa, quando siamo venuti ad accendere i lumini che avete visto, abbiamo sentito la gallinella d'acqua. La gallinella d'acqua è un volatile che vive negli stagni, in questi laghetti nidifica solitamente, si è sentito disturbato e ha lanciato un segnale d'allarme. Come vi dicevo, sarebbe bello in queste serate qui avere l'occasione di ascoltare o di vedere un rapace notturno che si muove, che si leva in volo. Purtroppo sono molto rari, per varie realtà ambientali che si sono degradate recentemente negli ultimi anni. La campagna non è più quella di 50 anni fa, quindi allocchi, civette e gufi trovano sempre più difficoltà a trovare l'habitat ideale. In questo piccolo appezzamento di terreno, come vi dicevo, per le caratteristiche che ha, potrebbe vivere tranquillamente un allocco. Infatti noi tempo fa abbiamo già messo un nido artificiale per allocco, che dopo andremo a vedere in un angolo verso il viale, però al momento non è ancora stato utilizzato. I rapaci notturni hanno sempre colpito l'immaginario dell'uomo, forse perché sono animali legati alla notte, forse perché hanno delle caratteristiche tali che ce li rendono veramente interessanti. Voi sapete che fin dall'antichità la notte nell'immaginario dell'uomo ha rivestito un'importanza fondamentale, quindi tutti gli animali che la popolano, ai rapaci notturni, ai pipistrelli, creano nel nostro immaginario un'impressione forte. In particolare i rapaci notturni hanno una struttura anatomica molto complessa, hanno un volo silenzioso. Questo è dovuto al fatto che le loro ali sono costituite da piume che hanno i margini sfrangiati e sono ricoperte da un leggero vellutino. Quindi se vi capita di vedere in volo una civetta, non percepite il tipico battito di ali, ma appena appena un fruscio. Questo permette al rapace notturno di arrivare sulla preda e colpirla senza essere percepito. Hanno un apparato visivo molto sviluppato. Se notate a differenza degli altri uccelli, hanno gli occhi posti sulla parte frontale della faccia, anziché avere i lati. Questo permette a loro di mettere a fuoco un'area ben delimitata e di colpire anche in questo caso con la massima precisione. Hanno le orecchie molto sviluppate e addirittura messe nell'osso cranico in modo sfasato. La sfasatura dell'apparato uditivo fa sì che loro siano in grado di percepire il minimo rumore. Quindi occhi molto sviluppati, orecchie molto sviluppate, l'apparato di volo silenzioso, quindi sono dei predatori perfetti per la notte. In più, una cosa che credo colpisce anche noi, hanno la possibilità di ruotare il capo quasi a 360 gradi. Quindi quando sono appollaiati in attesa della preda non devono muovere il corpo ma semplicemente il capo, riescono a ruotarlo praticamente all'indietro e vedere un campo visivo molto ampio. Hanno sempre colpito la nostra immaginazione, come io vi ho detto. Già al tempo degli agiziani c'è un geroglifico che rappresenta la silhouette stilizzata di un gufo o di una civetta. È un geroglifico che rappresenta l'oscurità, il freddo e la morte. Hanno sempre avuto quindi anche la sfortuna di essere abbinati a un'idea di tenebre, di morte, di freddo. Nell'antica Grecia questa immagine si è un po' rivalutata perché la civetta era l'animale sacro alla dea Atene. Era l'animale sacro perché Atene rappresentava la saggezza e la civetta con la sua capacità di vedere nella notte rappresentava appunto la perspicacia, la prudenza, la chiaroveggenza. Quindi un animale che nella notte riesce a vedere lontano rappresentava idealmente quello che era la dea che sapeva con la sua saggezza illuminare il cammino degli uomini. Una tradizione che si è mantenuta poi nell'antica Roma con Minerva. Nel Medioevo si è poi praticamente persa e gli uccelli notturni lì hanno incominciato un po' ad acquisire quella fama immeritata di animali legati alle tenebre, a riti stregoneschi e così via. Nel Macbeth di Shakespeare le streghe mentre fanno la loro pozione buttano dentro ali di gufo perché il gufo essendo un animale legato alle tenebre e alla notte aveva qualcosa di magico dentro di sé. Fino ai giorni nostri tuttora come sapete nelle nostre campagne se avete sentito racconti dei nostri anziani c'è un po' il timore che il canto della civetta o il canto del gufo sia un segnale di un lutto imminente che sta per arrivare. Per fortuna sappiamo che non è così. Hanno un canto particolare questi animali notturni che non è quello degli uccelli che vivono durante il giorno che è ovviamente più melodioso. È un canto ripetitivo spesso, a volte è uno stridio, il barbagianni fa un suono che sembra quasi il sibilo di una pentola a pressione, quindi fa qualcosa di stregonesco in questo verso che riesce a tirar fuori. Purtroppo hanno subito, come vi ho detto all'inizio, l'impatto del degrado ambientale che stiamo un po' vivendo tutti di questi tempi. Sono molto rarefatti come numero, il barbagianni che una volta era presente in vaste aree della pianura, ormai qui nella zona di Cugno è quasi scomparso, per fortuna abbiamo ancora la presenza della civetta, dell'allocco, del gufo, in alcune zone di montagna è presente il gufo reale, sono presenti alcune altre specie di civette, le civette capogrosso, le civette nane che vivono in boschi di conifere. Però negli ambienti cittadini o semiurbani come questo, i rapaci notturni che ancora possono esserci sono, come vi dicevo, l'allocco e la civetta. La civetta di soli utilizza anche vecchi ruderi per ripararsi, per fare il nido. Qui sotto, lungo il percorso del parco fluviale, se vi è capitato già di passare, c'è un vecchio maneggio in abbandono, potrebbe essere il posto ideale per la presenza della civetta, non l'abbiamo ancora rilevata noi però finora. Sono animali utili, concludo con questo, quindi sgombriamo il campo dalle superstizioni, sono molto utili per la campagna e per le coltivazioni perché sono voraci di micromammiferi, quindi topolini, arvicole, tutti quei piccoli roditori che portano danno alla campagna, all'occorrenza si nutrono anche di insetti e quindi sono di una grande utilità. Speriamo che possano continuare ad essere presenti e ad aiutarci con la loro presenza a realizzare quell'equilibrio ambientale che noi come l'IFU, come tanti altri, cerchiamo di perseguire. Se qualcuno vuole domandare qualcosa è un po' di più di più. Grazie.